Il circolo Kennedy del Partito Democratico Espicese ha un suo nuovo segretario, eletto martedì sera, è Roberto Luca, che succede a Rosanna Bandolfi. È stato eletto per acclamazione, era l'unica candidatura che il circolo Kennedy esprimeva. Roberto, intanto complimenti per l'elezione. Da segretario del circolo Kennedy, le tue prime parole attraverso i microfoni di Radio Dimensione Musica. Vorrei innanzitutto ringraziare gli amici del circolo per la fiducia che mi hanno accordato. Spero soltanto di essere all'altezza del compito. Sono rassicurato dal fatto di poter contare comunque sull'appoggio del circolo nel suo complesso e del coordinamento. Confido anche nel fatto che siamo una squadra, una squadra unita e coesa. Ringrazio inoltre la segretaria docente Rosanna Bandolfi per il lavoro che ha svolto. Sicuro di poter contare sulla sua esperienza, sull'esperienza maturata in questi anni. Un altro ringraziamento per il fatto che con la sua rinuncia alla ricandidatura ha consentito un ricambio di classe dirigente del circolo. Speriamo di contribuire attraverso il nostro appoggio all'amministrazione e alla crescita della nostra città. La tua sarà una segreteria che porterà il circolo Kennedy all'appuntamento delle elezioni amministrative nel maggio-giugno 2020. Ricordiamolo, il circolo Kennedy appoggia l'amministrazione Pierenzo Muraglie con due figure di spicco. Evo Moncada, assessore ai servizi sociali e alle politiche giovanili. E il capogruppo al Consiglio Comunale, Gianni Stornello. Manca un anno e mezzo all'appuntamento elettorale. Come si muoverà il circolo? Noi vogliamo incidere con le nostre proposte sull'attività dell'amministrazione comunale, impiegando in modo proficuo l'anno che ci separa dalle elezioni. Uno dei temi che affronteremo nelle prime riunioni del coordinamento del circolo sarà quello di individuare le priorità programmatiche da sottoporre al sindaco. Ai nostri amici che operano all'interno dell'amministrazione, penso all'assessore Moncada e al capogruppo del PD Gianni Stornello, noi chiederemo il massimo dell'impegno per concludere nel migliore dei modi questa consigliatura. Roberto, una mia provocazione e anche curiosità, perché il circolo Kennedy Renziano nel suo DNA ha espresso 35 preferenze alla candidatura di Nicola Vincaretti e solo tre alla candidatura Giacchetti Ascani? Non dovrebbe essere il contrario? Inizialmente il circolo si era orientato verso la candidatura a Minniti, ma dopo il ritiro della candidatura ovviamente si è posto il problema per il circolo su quale candidato convergere. Si è aperto all'interno del circolo un'ampia discussione dalla quale è emersa l'idea di appoggiare la candidatura a Zingaretti. Le ragioni sono molte. Non c'è dubbio che il nostro partito in questo momento sta attraversando un momento storico difficile. Le elezioni del 4 marzo hanno sicuramente aperto una crisi all'interno del partito, una crisi di leadership ma anche una crisi politica. L'idea che prevassa all'interno del circolo è stata quella di appoggiare un candidato che avesse determinate caratteristiche, ovvero che fosse autorevole, inclusivo e di esperienza. Caratteristiche che certamente Zingaretti possiede. Ringrazio Roberto Luca, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.